Nel corso di un mirato servizio, ieri mattina ad Agropoli, il personale della Polizia Municipale, diretta dal comandante Carmine Di Biasi, ha fermato un trentenne originario del napoletano intento ad esercitare l'attività di parcheggio abusivo nei pressi del parcheggio Landolfi, ad operare sul campo i militari Oricchio, Immerso e Cauceglia, a carico del soggetto con precedenti specifici fogli di via e daspo emessi da una serie di comuni del Salenitano, è stato operato un ordine di allontanamento previsto dal decreto Minniti. È stato ammonito e reso edotto che l'inosservanza di tale provvedimento determinerà l'emissione di daspo urbano da parte del questore di Salerno della durata massima di sei mesi e in caso di reiterazione dell'inosservanza potranno essere adottate altre misure di maggiore severità.